Le indagini continuano il comunicato stampa della società Nerazzurri ha messo in evidenza un leggero risentimento per i flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni. Inter. Si rammarica Samar Zikreteghi dopo 5 vittorie consecutive. Il primo KO nel campionato dell'Inter ha fatto il naso ai fan. Che sui social network stanno dando liberamente i rimpianti del mercato dei trasferimenti estivi. In particolare, i sostenitori del Nerazzurri Club si lamentano di Lazar Samar Zikic e gli impegni mancanti di Matteo Retteghi. Il primo è tornato, nonostante la sconfitta il suo Udinese. Un gol memoria maradonia nel tempio della Pibe de Oro l'ex San Paolo Napoli. Nel nome lui. L Argentina italiana. D'altra parte. Ha avuto un impatto incredibile Genova e ha già segnato 5 gol. Al punto che la curva rosso-blu ha avventurato il confronto scomodo Milita.